Un contributo economico alla famiglia di Luana Dorazio, la giovane operaia deceduta nella fabbrica di Montemurlo lo scorso 3 maggio, approvata la mozione all'unanimità. Insediata la commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzate in Toscana, la consigliera della Lega Elena Meini, eletta presidente. Il Consiglio regionale della Toscana, durante la seduta di martedì 11 maggio, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo Forza Italia che chiedeva il riconoscimento di un contributo economico previsto dalla legge regionale per le vittime di incidenti sul lavoro alla famiglia di Luana Dorazio, la giovane operaia morta al 3 maggio nella fabbrica di Montemurlo nella provincia di Prato. Ora la Regione, ha chiesto il capogruppo di Forza Italia Marco Stella, si attivi subito per lo sblocco immediato dei fondi. Il contributo non risponde a finalità di carattere risarcitorio, ma esprime una manifestazione di solidarietà da parte della comunità regionale verso le famiglie colpite dall'evento luttuoso, quale sostegno per le più immediate necessità, anche quelle di un'adeguata assistenza legale. Il Consiglio non poteva rimanere insensibile all'evento drammatico e anche alle parole sferzanti che ieri Monsignor Tardelli ha voluto rivolgere a tutte le istituzioni presenti ai funerali e che hanno detto una cosa molto chiara e inequivocabile. Luana e le altre vittime degli incidenti sul lavoro sono lì a guardarci, a chiedere conto, a chiedere responsabilità e impegno. Il Consiglio regionale non ha lasciato cadere nel vuoto questo invito, ma ha voluto subito proporre una risoluzione condivisa da tutte le forze politiche che impegni la Giunta proprio a lavorare al rafforzamento degli strumenti di contrasto per quanto riguarda appunto il tema della sicurezza, quindi di rafforzamento della cultura, soprattutto della sicurezza, quindi molto da fare sul piano della formazione, su un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere, ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti. A questo poi si affianca un altro strumento che è stato introdotto dalla precedente Giunta ed è un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime. In questo caso c'è anche un bimbo di pochi anni al quale il Consiglio e la Giunta vorranno certamente non far mancare il proprio sostegno. Una tragedia immane di una ragazza, di una donna, di una mamma, prima ancora di una lavoratrice, è una tragedia e come tale bisogna non soltanto ricordare, non soltanto chiedere maggiore sicurezza, ma si deve poter fare qualcosa di più. È il motivo per il quale anch'io in prima persona ho firmato l'atto condividendo la proposta del Presidente Stella perché si possa fare qualcosa istituendo questo fondo e cercando di dare un contributo anche economico a tutti coloro che si trovano poi nelle condizioni di difficoltà a causa di un decesso di un proprio familiare e allo stesso tempo per contrastare ovviamente le morti bianche sui luoghi di lavoro. Noi abbiamo firmato quella proposta e crediamo che in realtà, lo abbiamo detto e lo proporremo, questa debba diventare anche strutturale perché molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro e crediamo che in questo caso la Regione debba andare a supporto di chi ha bisogno perché ci dobbiamo ricordare delle persone che non ci sono più non solo nel momento in cui vengono a mancare ma anche per il futuro di quella famiglia, per il futuro dei propri figli e cercare di dare sollievo a quelle famiglie che sono fortemente colpite. Abbiamo fatto un minuto di silenzio all'inizio della seduta io credo che debba rimanere a nostra memoria tutte le volte che succede un fatto così grave e dobbiamo però anche trasformare in propositivo cercando di portare un contributo a chi ne ha bisogno perché purtroppo è stato colpito da un lutto che non riporterà indietro assolutamente chi non c'è più ma che deve dare una mano a chi deve guardare anche al futuro. Tutti i gruppi all'unanimità hanno condiviso la proposta del Presidente Marco Stella di dar vita ad una raccolta di fondi è un gesto concreto, significativo poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro perché le cosiddette morti bianche, veder morire una mamma giovane, una ragazza ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita altri ragazzi per questioni legate al mondo del lavoro è insopportabile, è una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle che dobbiamo in qualche modo eliminare nel senso che dobbiamo migliorare la normativa e quindi ridurre questi tragici eventi. Condividiamo la proposta ma avremmo preferito che fosse allargata il Vescovo durante l'Omelia ha detto una cosa molto forte Luana e tutti i morti sul lavoro sono tutti in piedi davanti a noi che ci stanno chiedendo giustizia e tutela ecco dovremo fare probabilmente un fondo, istituire un fondo non soltanto per Luana d'Orazio ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio e magari l'hanno fatto con passione e con dedizione per il loro lavoro dovremo pensare a tutti loro e ricordarci che ogni perdita di vita umana sul lavoro è una grandissima sconfitta per la Toscana. Si è insediata nel pomeriggio di lunedì 17 maggio la commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana è stata eletta presidente Elena Meini, consigliera della Lega vicepresidente, la consigliera del PD Lucia De Robertis e vicepresidente segretario, il consigliere d'Italia Viva Maurizio Sguanci la votazione palese è stata espressa dopo la presentazione di una sola lista annunciata da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia presidente e ufficio di presidenza hanno incassato il solo voto contrario di Rene Galletti del Movimento 5 Stelle A introdurre compiti e obiettivi della commissione il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo servirà a verificare attraverso una scrupolosa azione di indagine su quello che è di competenza regionale se vi sono pratiche da eliminare, cambiare o migliorare e se vi sono azioni positive ulteriori rispetto a quelle realizzate in questi anni ha dichiarato al fine di garantire che la convivenza sociale ed economica della nostra regione sviluppi tutti gli anticorpi necessari a eliminare fin dal suo primo insorgere ogni possibile virus mafioso Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione però non ci fermeremo assolutamente lì perché purtroppo lo abbiamo visto in Toscana la mafia c'è, esiste e il compito della commissione dei consigliari regionali deve essere quello di far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando la crisi economica che ci ha travolto purtroppo attira anche questa criminalità organizzata quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della regione toscana studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiose non si ramificano nella nostra regione che la regione metta in atto quelle procedure quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle interpretazioni io mi auguro questo di riuscire attraverso l'aduzione di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafiose o perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare a sbagliato regione credo che dobbiamo ascoltare anche i soggetti che in qualche modo vogliono darci delle indicazioni per davvero mettere in atto tutte quelle azioni che possono tenerci al riparo poi lo sappiamo, insomma, nessuno è il riparo da tutti però dobbiamo fare di tutto se necessario io non ho difficoltà a pensare che si possa andare oltre la normazione vicente certo è che noi non siamo una commissione d'inchiesta parlamentare quindi ci sono dei limiti come voi sapete molto diverso quindi noi dobbiamo attenerci all'ascolto e al tentativo di risolvere questi problemi che ci vengono esposti noi come tutti i toscani ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dei rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano non solo per tagliare definitivamente cordoni con alcuni ambienti malavitosi ma anche e soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia anche pulizia ambientale e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centro-destra e la cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta è stato proprio il Movimento 5 Stelle quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione alla quale comunque auguro buon lavoro e a cui do subito una prima indicazione secondo me di come si dovrebbe impostare cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana che ha coinvolto diciamo non soltanto lo scandalo che è ma anche altre iniziative dove ci sia un coinvolgimento della criminalità organizzata e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo ma anche e soprattutto di infiltrazione di organizzazioni malavitose e connotazioni di carattere mafioso